Musica Prendono il via oggi presso il convento di San Domenico Maggiore le giornate per la cultura promosse dal comune su iniziativa dell'assessore Antonella di Nocera e in programma fino a venerdì 5 aprile. Circa 400 le iscrizioni pervenute sul sito istituzionale per partecipare a dibattiti e riflessioni sulle politiche culturali. Obiettivo degli incontri è condividere idee ed esperienze ed elaborare una mappa di proposte per rilanciare la cultura in città. Con due delibere la Giunta Comunale ha approvato l'utilizzo di oltre 2 milioni 800 mila euro per la realizzazione di interventi urgenti e non più rinviabili di manutenzione straordinaria di edifici scolastici e strade cittadine. Sulla base delle segnalazioni pervenute i fondi consentiranno di mettere in sicurezza e ripavimentare alcune strade dissestate e di intervenire in una ventina di scuole al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Per consentire lo svolgimento delle regate di Coppa America che si terranno a Napoli dal 13 al 21 aprile, il Comune ha istituito una ZTL straordinaria ed una corsia preferenziale su via Caracciolo e via Le Dorn, necessaria dopo la chiusura al traffico della riviera. Il dispositivo sarà in vigore fino al 28 aprile, da lunedì al giovedì, dalle 7 alle 21 e dal venerdì alla domenica fino alle 24. In servizio anche un'apposita navetta per facilitare gli spostamenti di cittadini residenti alla riviera di Chiaia. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito del Comune. Dopo il successo delle precedenti edizioni torna a Napoli EnergyMed, il salone sulle fonti rinnovabili che si terrà dall'11 al 13 aprile alla Mostra d'Oltremare. Efficienza energetica, riciclo e mobilità sostenibile saranno protagonisti della tre giorni di tecnologia e innovazione tanto attesa da esperti e professionisti del settore.